La piramide della droga senza occupazione è lo spaccio come fonte di sostentamento economico. La procura di Castro Villari ha arrestato 13 persone. Il gruppo riconducibile al clan degli Zingari forniva di sostanze stupefacenti la città del Pollino. Facciolla oltre 30 gli episodi accertati. La cricca delle cartelle false a processo disposte un rinvio a giudizio per i 13 indagati della inchiesta Malas Sanitas della procura di Reggio. Secondo l'accusa nel reparto di ginecologia dei riuniti operava una associazione a delinquere finalizzata a coprire gli errori medici e le omissioni. Il countdown degli aeroporti. Domani prima seduta pubblica di Asta per l'aggiudicazione degli scali di Reggio e Crotone. Quattro le offerte presentate. Sakal tenta la scalata. Sagas vuole il Sant'Anna. Una soluzione per le mura greche. I reperti archeologici di vivo al centro di un incontro in comune. Gli attivisti del comitato ricevuti dal presidente del consiglio. Il cost to cost su due ruote. La passione per la bicicletta ha spinto un gruppo di amici di San Costantino Calabro fino in Basilicata ed in Sicilia. E un'altra avventura firmata a bici insieme del presidente Raffaele Mancuso. Edizione delle 14 del nostro giornale. Buongiorno da Emilia Canonaco. Questo è lo spazio della C dedicato alla informazione. Lo avete appena sentito dalla sommario. Partiamo subito dalla droga. Senza una occupazione stabile e con lo spaccio di droga come unica fonte di sostentamento economico. La procura della Repubblica di Castrovillari ha arrestato 13 persone accusate a vario titolo di immettere droga nella città del Pollino. Persone unite in molti casi da vincoli familiari. I particolari. Sgominata a Castrovillari una sorta di dynasty della droga. I carabinieri del comando provinciale di Cosenza hanno eseguito diverse misure cautelari in carcere e ai domiciliari. Le accuse sono di spaccio continuato di cocaina, hashish e marijuana. Le indagini condotte dalla compagnia carabinieri di Castrovillari si sono sviluppate tra la fine dello scorso anno e i primi mesi del 2016 ed hanno permesso di individuare un gruppo di parenti, due coppie, il suocero di una delle coppie e quattro donne che avevano monopolizzato le attività di spaccio nella città del Pollino. I soggetti indagati sono in parte riconducibili alla famiglia degli zingari del Cosentino. La droga veniva consegnata a domicilio più o meno come una pizza. Bastava una telefonata per ordinare. La cocaina veniva indicata utilizzando strani termini come telefonino. Se poi la qualità non era soddisfacente, il cliente si lamentava dicendo che il telefonino non funzionava. In carcere sono finiti Gianni e Fabio Bevilacqua e Rocco Madio. Arresti domiciliari disposti per Catiusciarena, Monica Madio, Luisa Bevilacqua e Caterina Pugliese. Francesco Pirillo per la CNews24. E a margine della conferenza stampa di cui abbiamo appena visto le immagini, conferenza stampa che si è svolta presso la sede del Comando Provinciale dei Carabinieri di Cosenza, abbiamo intervistato il procuratore della Repubblica di Cassovillari, Eugenio Facciola, che tra le altre cose ha dichiarato, grazie alle nostre indagini, siamo riusciti a certificare 30 diversi episodi di spaccio. Queste le sue parole. In questo caso l'attività riguarda i soggetti che gestivano questo traffico di sostanze superfacenti tipo pesante, perché parliamo di cocaina, la maggior parte degli scambi di droga erano per cocaina, quindi con anche ingenti somme di denaro che circolavano di volta in volta. Questo è un po' il dato significativo. Va letto questo intervento con gli altri che stiamo portando avanti. La zona è una zona assolutamente collegata. I canali di approvvigionamento sono grossomodo gli stessi e i soggetti che operano sono in qualche modo inquadrati, strutturati in questo contesto. Per cui più colpi riusciamo a dare in questa direzione e più togliamo non solo manovalanza, ma togliamo anche menti pensanti per quella che è l'attività di spaccio sul territorio. Purtroppo le donne ormai sono diventate un dato assolutamente costante. vuoi per la carcerazione o comunque l'arresto domiciliare, insomma altre forme di provvedimenti che impediscono agli uomini di agire liberamente sul territorio. E soprattutto perché spesso sono quelle che non sono controllate o sono poco controllate, non sono note alle forze dell'ordine, quindi riescono a sfuggire spesso a molti controlli. Francesco Pirillo per la Cineus 24. E non c'è dubbio, parlano le inchieste, parlano le operazioni che da quando Facciola si è insediato a Cassola Villaribè ha dato a questo ufficio una bella sferzata. Qui invece stiamo vedendo le immagini che ci ha messo a disposizione il Corpo Forestale dello Stato. Siamo ancora nel Cosenza. Sua proprietà come discarica abusiva di rifiuti. Un uomo è stato denunciato a Cosenza dal Corpo Forestale dello Stato. Nell'area che è stata posta sotto sequestro, venivano depositati illecitamente rifiuti provenienti da attività edile, di demolizione, terre, rocce di scavo e rifiuti domestici come lavatrici e frigoriferi, trovate anche carcasse di animali. L'attività veniva effettuata naturalmente senza la necessaria autorizzazione in campo ambientale. Da qui il provvedimento di sequestro e la denuncia del proprietario del terreno. Siamo adesso alla cronaca giudiziaria. Ricorderete perché ebbe un eco addirittura nazionale l'inchiesta della Procura della Repubblica di Reggio Calabria, denominata Mala Sanitas, che portò alla luce una vera e propria organizzazione a delinquere, che operava all'interno del reparto di neonatologia e ostrettrice dei riuniti della città dello stretto. Una organizzazione che aveva lo scopo di coprire errori, medici in alcuni casi purtroppo fatali ed omissioni. C'è un aggiornamento perché è stato disposto il rinvio a giudizio. Dunque saranno processati dei 13 indagati, tra di loro anche l'ex primario Pasquale Vadalà e l'ex facente funzioni Alessandro Tripodi. Il nostro servizio. Il gruppo di Reggio Calabria, Nicolò Marino, ha rinviato a giudizio tutti gli indagati del procedimento Mala Sanitas, quello che scoperchiò un presunto sistema di copertura degli errori medici nel reparto di ginecologia e ostetricia degli ospedali riuniti di Reggio Calabria. Cartelle falsificate per nascondere danni alle gestanti e ai bambini in un sistema di reciproca omertà che avrebbe coinvolto medici e personale sanitario. A giudizio vanno Luigi Grasso, Maria Concetta Maio, Daniela Manuzio, Antonella Musella, Annibale Maria Musitano, Roberto Rosario Pennisi, Filippo Luigi Sacca, Massimo Sorace, Giuseppina Strati, Alessandro Tripodi, Pasquale Vadalà, Mario Gallucci e Marcello Tripodi. Il reato di associazione a delinquere però viene contestato al solo Alessandro Tripodi, Vadalà e Manuzio, mentre gli altri soggetti dovranno rispondere a vario titolo di colpa medica, falso ideologico e materiale e distruzione di atti. Escluse dal processo alcune delle persone inizialmente indagate, come il dottor Salvatore Timpano, il cui nome era già uscito dalla lista degli indagati. Francesco Creazzo per la Cineus 24 Parliamo adesso della indagine che è stata preparata dall'Istituto Open Police che riguarda naturalmente a livello nazionale i comuni che sono stati sciolti. C'è un primato che interessa da vicino la nostra Calabria perché in Calabria c'è il maggior numero di scioglimenti per quanto riguarda le infiltrazioni mafiose. Ben 5 casi su un totale di 13 municipi. La Calabria è la regione più commissariata d'Italia, almeno stando ai dati forniti dall'ultimo dossier stilato da Open Police, l'osservatorio civico sulla trasparenza della politica. Il periodo preso in esame è quello tra il 2001 e il 2014, periodo nel quale sono stati sciolti 2.385 consigli comunali con una media di 170 provvedimenti all'anno. Sono 2 milioni e mezzo i cittadini interessati dal fenomeno in quanto residenti in comuni commissariati. Da segnalare due provvedimenti eccellenti, lo scioglimento del Consiglio Comunale di Roma nel 2001 e nel 2008 e quello di Reggio Calabria per contiguità mafiose nel 2012. Dai dati emerge che i commissariamenti sono un fenomeno nazionale ma hanno incidenza maggiore nel mezzogiorno. Dal 2001 al 2014 è stato registrato almeno uno scioglimento in 18 delle 20 regioni italiane. Per quanto riguarda i commissariamenti per mafia, dal 1991, anno in cui fu introdotta la norma, al 2014 sono stati 258. Di questi la maggior parte si trovano in Campania e Calabria, seguite dalla Sicilia. Nell'anno in corso la tendenza rimane invariata. Dall'inizio del 2016 il Consiglio dei Ministri ha decretato lo scioglimento di 13 consigli comunali, 5 sono calabresi e si trovano nella provincia di Reggio Calabria. Il record di tempo è detenuto dal Comune di Africo, dove il commissariamento più lungo è durato 762 giorni. Loredana Colloca per la CNews24. Cambiamo decisamente argomento e occupiamoci di infrastrutture. È in programma per la giornata di domani la prima seduta pubblica di Asta per quanto concerne l'aggiudicazione della gestione degli scali aeroportuali di Reggio Calabria e Crotone. Della volontà di scalare entrambi gli scali da parte di Sacala, abbiamo già ampiamente detto. C'è una novità perché il Sant'Anna vuole aggiudicarselo la Sagas. Sentiamo. Giornate cruciali per il futuro dei cieli della Calabria. Scaduti i termini per la presentazione delle offerte per la gestione degli aeroporti di Reggio e Crotone, per mercoledì 12 è fissato il termine per la prima seduta pubblica di gara, così come stabilito dall'Enac. Quattro sono le offerte pervenute e due arrivano da società calabresi, in entrambe a una quota di partecipazione della Regione. Si tratta della Sagas, nata sulle generi della società che ha gestito il Sant'Anna prima di fallire, e di Sagal, società che attualmente gestisce l'aeroporto di Lamezia e che, stando ai criteri previsti dal bando, dovrebbe avere le maggiori possibilità di successo. Il bando Enac, infatti, premia le offerte che riguardano la gestione di entrambi gli scali e, mentre Sagas si propone per gestire esclusivamente l'aeroporto di Crotone, il business plan di Sagal prevede la gestione unitaria degli scali della Calabria, un modello che non dispiace al Governatore Oliverio e che potrebbe dare maggiore forza alla legge complessiva di riordino del sistema aeroportuale che dovrebbe presto arrivare in Consiglio. Sul percorso che dovrebbe portare alla gestione unica, però, si stanno coagulando diverse resistenze politiche. Dopo le interrogazioni dei parlamentari grillini che puntano l'indice contro la situazione finanziaria di Sagal, si è aggiunta la presa di posizione pubblica di Flora Sculco e del sindaco di Crotone, Ugo Pugliese, a sostegno di Sagas. Ulteriore dimostrazione delle difficoltà interne al centro-sinistra in Consiglio e dell'allontanamento progressivo dell'Asculco dalla coalizione. Riccardo Tripepi per la CNews24. E poi c'è il progetto del Ponta sullo Stretto di Messina di cui ciclicamente si riprende a parlare alcune settimane fa il rilancio di questo grande progetto da parte del Presidente e del Consiglio dei Ministri. A tal proposito vogliamo farvi ascoltare la posizione di Laura Boldrini, Presidente della Camera dei Deputati, che di questo ha parlato ieri con i giornalisti a margine della sua visita all'Università degli Studi della Calabria. Sarò a melito perché è una storia terribile, quella della bambina che è stata violentata per anni, nel silenzio, nella paura di denunciare qualcuno che poteva danneggiare la famiglia, quindi il figlio di un posto di indrangheta. Trovo doveroso per le istituzioni stare accanto alle vittime, ma anche accanto alle comunità che si ribellano. Laura Boldrini, Presidente della Camera, in occasione del suo intervento all'Università della Calabria al convegno Donne Metogiorno Europa, ha confermato la partecipazione alla manifestazione promossa dal Presidente della Regione Mario Olivevio, in programma il prossimo 21 ottobre. Ma sollecitata dai giornalisti, la numero uno di Montecitorio ha lanciato anche una frecciata al Premier Matteo Renzi sull'utilizzo delle risorse pubbliche. Se dipendesse da lei, la priorità non sarebbe il ponte sullo stretto. Io penso che il ponte sullo stretto non sia una priorità. In un'Italia in cui il dissesto idrogeologico continua a fare enormi danni, in un'Italia in cui si muore di terremoto, io penso che la priorità sia mettere in sicurezza i nostri cittadini, prima di tutto. Dopodiché c'è anche il resto. Però, ecco, se dovessi io decidere come utilizzare le risorse, sicuramente le utilizzerei per la messa in sicurezza del territorio. Salvatore Bruno per la Cineus 24. Da Arcavacata a Cosenza per parlare di politica a fuoco incrociato tra Carlo Guccione PD e il Sindaco Mario Occhiuto. Il primo convoca una conferenza stampa insieme con il consigliere comunale Covelli per accusare Palazzo De Bruzzi di aver nella passata legislatura affidato a parti milionari senza rispettare le regole, di non essere stato capace di riscuotere i tributi. In riscossione ferma al 15%. Occhiuto replica nel pomeriggio con altra conferenza stampa attacchi strumentali che provengono da un PD che è espressione di illegalità. Sono loro che ci hanno lasciato il dissesto finanziario. Vi sono irregolarità contabili per le quali è necessario disporre una verifica ispettiva a cura della ragione via generale dello Stato nei confronti dell'amministrazione comunale guidata da Mario Occhiuto. Carlo Guccione, consigliere comunale e coordinatore della coalizione La Grande Cosenza, lo dice da tempo e a chiave lettere i numeri a Palazzo De Bruzzi non tornano e la Corte dei Conti deve vederci chiaro. Tempo fa il Comune di Cosenza ha avuto approvato il piano finanziario pluriannale a condizione che ci fosse una verifica semestrale e annuale di tutte le condizioni per cui è stato approvato. Noi abbiamo registrato alcune irregolarità che riguardano, per esempio, in quel piano era previsto che le entrate tributarie arrivassero al 90%. Ad oggi i revisori dei conti del Comune di Cosenza ci dicono che sono al 14,49%. C'è l'obbligo che ogni semestre il Comune di Cosenza debba fare una relazione da inviare alla Corte dei Conti e non risulta ancora che questa relazione non è stata inviata. La replica di Mario Occhiuto, che nel frattempo ha nominato Antonio Molinari capo di gabinetto, non si è fatta attendere. Appare un vero paradosso che certi attacchi strumentali e falsi ci arrivino dal PD Cosentino, notoriamente espressione di illegalità e di ipocrisia che i cittadini di Cosenza hanno mai ben capito. Poi il Sindaco aggiunge hanno governato questa città per anni, lasciando il Comune con la certificazione del dissesto finanziario che adesso, con la nostra azione amministrativa, stiamo risanando. Salvatore Bruno per la CNews24. Voltiamo pagina alla vicenda del ritrovamento delle mura greche a Vivo Valencia. C'è stato un incontro in municipio tra il Comitato Civico e la Presidente del Consiglio con lo scopo di trovare finalmente una soluzione. Le ruspe sono tornate a scavare lì dove, durante i lavori di rifacimento della strada, è riaffiorata un'antica cinta muraria. È il mese di maggio, quando i lavori commissionati dal Comune di Vivo Valencia vengono interrotti in attesa del parere della soprintendenza, che dopo qualche settimana autorizza il prosieguo dei lavori solo relativamente alla variante per l'attraversamento della strada. Nel frattempo, il Comitato Civico Pro Mura Greca intraprende una battaglia a difesa del patrimonio storico della città, appellandosi persino al Ministro dei Beni Culturali. Nonostante il via libera della soprintendenza e a pochi giorni dal completamento dei lavori, gli attivisti del Comitato non mollano la presa, tant'è che ieri sono stati ricevuti dal Presidente del Consiglio Comunale nel tentativo di trovare in extremis soluzioni condivise ed efficaci. Il problema fondamentale è che qui si contrappongono due interessi pubblici altrettanto rilevanti, quello del controllo delle acque e della messa in sicurezza è quello di valorizzare l'identità locale e le risorse storiche, culturali, ambientali del nostro Paese. Noi riteniamo che come si sta facendo il lavoro, quindi noi discutiamo nel metodo, nel modo in cui si sta realizzando questa condotta, non è il modo migliore per garantire la fruizione, la salvaguardia, la tutela dell'opera monumentale che rappresenta la nostra identità storica. I lavori sono ripartiti, la vostra battaglia è persa? Noi ci siamo dati questa settimana, sarà per tentare di fare qualcosa, speriamo di riuscirci, lo merita la città, lo merita la nostra storia. E intanto giovedì prossimo in Via Paolo Orsi arriveranno i parlamentari grillini, Dalila Nesci e Nicola Morra, che insieme allo storico dell'arte Tommaso Montanari faranno un sopralluogo nella zona, per rendersi conto di persona, della situazione. Cristina Iannuzzi per l'Arc News 24. Immigrazione ed immigrazione ruoterà attorno a queste due parole, scusate, la puntata odierna dei Fatti in diretta. Buongiorno Pietro, buongiorno Rosaria. Buongiorno a te, sì, parleremo della Calabria come terra di approdo, terra di approdo per un'umanità affranta, un'umanità sofferente, che fugge dalla guerra e anche dalla miseria. Una terra però che è anche luogo di partenza, di partenza per tutti quei giovani che sono costretti a lasciare la loro terra natia per trovare lavoro altrove. Un tema che affronteremo grazie alla partecipazione del professor Vincenzo Falcone e del direttore del dispaccio Claudio Cordova, che tra l'altro è stato anche protagonista nei giorni scorsi di una violenta aggressione, una cyberaggressione, possiamo definirla, definirla in seguito ad un suo servizio relativo a ciò che è accaduto ad Archie con la protesta dei cittadini contro una giovanissima comunità di minori non accompagnati risedenti all'interno dell'ex facoltà di giurisprudenza. Ci collegheremo appunto con Archie, cercheremo di capire cosa è successo appunto a Reggio Calabria e poi questo sarà la stura per capire quanto la nostra terra accoglie e soprattutto è in grado di trattenere a sé i propri giovani. Restate con noi subito dopo il telegiornale. Riprendo la linea e andiamo avanti con il nostro giornale, la pagina della cultura. Con il prossimo servizio proviamo a tracciare un bilancio di quella che è stata Vivo Valencia, la quinta edizione della Tropea Festival Leggere e Scrivere, un festival di cui nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato i momenti più salienti. Una manifestazione che ad ogni edizione acquista qualità e si alza di livello è stato boom di presenze per la sesta edizione del Festival Tropea Leggere e Scrivere che per sei giorni ha trasformato Vivo Valencia in un centro di cultura di interesse nazionale. E a parlare sono anche i numeri. 130.000 le presenze censite per 150 incontri tra dibattiti, performance, laboratori per bambini, presentazioni di liberi incontri con scrittori, artisti, attori, studiosi, musicisti e giornalisti che hanno attirato un'ampia fetta di pubblico di ogni fascia d'età. Soddisfazione nelle parole degli organizzatori Maria Teresa Marzano e Gilberto Floriani che ha dichiarato il Tropea Festival Leggere e Scrivere ha avuto una settimana di grande impatto anche economico su tutto il territorio. Grande è stata la vitalità che ha generato questo evento e altrettanto grande è stata la risposta che abbiamo ricevuto dalla popolazione e non solo. In molti, tra imprenditori o esercizi commerciali del luogo, non hanno esitato nel dare la propria disponibilità a collaborare per il Tropea Festival e non sono rimasti delusi. La nostra speranza ha concluso. è che il Tropea Festival Leggere e Scrivere entri nel cuore e nell'animo di tutta la comunità vibonese rendendola orgogliosa di questa manifestazione culturale che non ha uguali in tutta la regione. Loredana Colloquio per la Cineus 24. Salute, benessere ed intorni. Se ne è discusso a Catanzaro in occasione della giornata di inaugurazione della 14esima Fiera degli Sposi. Salute, benessere ed intorni. Ne hanno parlato al primo salotto culturale nell'ambito della Fiera degli Sposi di Catanzaro il tricologo e medico estetico Antonio Soverina, il medico chirurgo specialista in scienze dell'alimentazione Vincenzo Capilupi, l'angiologo Elia Diaco, l'imprenditore Gianni Sgro e il presidente del movimento giornalisti d'azione Mario Tursi Prato. Il dibattito è stata un'interessante occasione per discutere e confrontarsi sulle abitudini e gli stili di vita errati, sulle problematiche legate ad una sbagliata alimentazione, sul rapporto tra medicina e bellezza e sulla corretta comunicazione sanitaria. Io sono convinto, sulla base dell'esperienza fatta dirigendo il sito nazionale della Società Italiana di Ortoscopia per alcuni anni e la rivista Salute e Sanità, legata a Gazzetta del Sud, che esistono delle eccellenze in Calabria nella sanità. Il problema è che bisogna comunicarle ai calabresi. Significa entrare nel merito delle patologie facendole illustrare dai medici calabresi che sono bravissimi. Per cui la comunicazione diventa fondamentale anche per frenare la migrazione sanitaria. Qual è il rapporto tra medicina e bellezza? È un rapporto molto stretto quello tra medicina e bellezza. In effetti il medico dovrebbe occuparsi della tutela della salute. Bisogna capire che cos'è bene questa salute, che non è solo semplicemente l'assenza di malattie, ma è qualcosa di più, è il presupposto per il completo benessere fisico e quindi parliamo dell'assenza di malattia. Ma anche psichico del paziente è sociale, quindi la persona deve sentirsi bene con se stesso e anche con gli altri di conseguenza. Rossella Galati per l'Asci News 24. Strano ma vero, giovani calabresi a rischio obesità. Parola del dottor Vincenzo Capilupi. Sentiamo. La cosa principale da fare sarebbe quella di cominciare a insegnare nutrizione e attività fisiche nelle scuole per poter cominciare da piccoli a modificare i comportamenti che hanno provocato purtroppo in Calabria un indice altissimo di diabete mellito e di obesità dei bambini. Quindi sarebbe l'ora di cominciare a pensare seriamente alla prevenzione che purtroppo qui dalle nostre parti se ne fa ben poca. Bisogna lavorare sul territorio e fare in modo che questo problema decennale venga affrontato in modo serio per evitare che i nostri figli saranno un esercito di malati. Per quanto riguarda il sistema venoso, ne soffrono tantissime donne anche di giovane età. È un fatto genetico, lo stile di vita, l'uso dei tacchi, le persone che stanno molto in piedi vicino alle fonti di calore. È una patologia molto diffusa. Oggi abbiamo un'ottima terapia medica, una terapia compressiva che ci aiuta nel prevenire. Nella presenza delle varici, lo stripping e il laser sono sicuramente un qualcosa di ormai superato. L'innovazione è la scleroterapia musseco guidata. È un qualcosa di innovativo perché senza taglio e senza anestesia, solamente con un piccolo ago ecoguidato si inietta una stanza schiumosa che provoca una flebite chimica all'interno dell'avena. Questa flebite chimica fa sì che questa avena varicosa scompaia. Siamo allo sport e la pallanuoto nello specifico con la città di Cosenza che chiude questa prima fase di Coppa Italia di Serie A1 femminile con una vittoria ed una sconfitta. Il campionato inizierà nel weekend. Buona la prima per il città di Cosenza. Nell'esordio stagionale di Unipolsa e le Cosentine tornano a casa con una sconfitta di misura e una grande vittoria. Contro due formazioni costruite per vincere Messina e Catania, le ragazze di Cocci Capanna si mostrano comunque determinate. Ottima prestazione soprattutto da parte delle nuove arrivate Sotirelli e Nuguanan che insieme daranno più sicurezza alla squadra. A rispondere bene è stato infatti il gruppo battuto dal Messina nella prima gara e il Sestetto Silano trova il riscatto contro il Catania. A novembre il ritorno, ma il città di Cosenza si prepara ora all'inizio del campionato, quello targato 2016-2017, ormai ai nostri di partenza. Nella prima giornata sarà nuovamente Messina, città di Cosenza. Il Sestetto di Capanna quindi avrà la prima opportunità di riscatto contro le Peloritane. Le Cosentine partiranno dalla mancata qualificazione alla Final Six dello scorso anno. La consapevolezza di essere cresciute e di aver costruito in questi mesi una squadra competitiva è all'altezza delle Big. Maria Chiara Sigillò per la CNews24. Un gruppo di amici in bici fino alla Basilicata e alla Sicilia. Li conosciamo. Una passione, due ruote. Questo lega tre amici del gruppo Bici insieme ai paesaggi in movimento di San Costantino Calabro, Andrea, Pasquale e Raffaele, da sempre con il desiderio di scoprire nuove terre. Una passione che ha spinto il gruppo ad avventurarsi in un viaggio che difficilmente dimenticheranno. La Basilicata cost to cost rigorosamente in bicicletta. Partiti da San Costantino, appunto, e tre appassionati si sono addentrati negli spettacolari paesaggi della Basilicata, passando da Maratea con la salita che porta al Cristo Redentore, Trecchina, Moliterno e Lauria, città natale dell'attore Rocco Papaleo. Paesaggi suggestivi che da sempre ispirano film nazionali e internazionali. All'avventura dei tre amici si aggiunge quella di altri due componenti del gruppo, Nicola Valente e Gerardo Santaguida, alla scoperta di Acitrezza in Sicilia, un meraviglioso borgo marinaro in cui Giovanni Verga ambientò il famoso romanzo I Malavoglia. Maria Chiara Sigillò per la C News 24. Bene, tutto mi fermo qui. Grazie di aver scelto il nostro giornale, ma rimanete sulla C perché tra poco c'è una nuova puntata dei Fatti in diretta. Arrivederci. La C News mattina, da lunedì a sabato alle ore 7. Domenica, ore 8. I calabresi sono informati. Grazie a tutti.